ciao capricorno benvenuto andiamo a vedere anche per te il periodo dal 15 al 30 giugno lo faremo con i tarocchi pensando anche però all'oroscopo va bene ai pianeti li ovviamente in testa io li ho in mente guarda la prima cosa ti dico c'è plutone che rientra nel tuo segno zodiacale quindi in questo periodo c'è un plutone che era entrato no ricordi ne abbiamo parlato nel segno dell'acquario mentre in questi giorni e poi fino alla fine dell'anno torna a camminare in capricorno ma andiamo per gradi e vediamo allora segno zodiacale capricorno dal 15 al 30 qui 240 allora il sole bene prima carta eccola la il sole il fante di spade che è uscito rovesciato che è uscito così le stelle bene il 6 di spade segno zodiacale capricorno l'imperatrice ok l'imperatrice cosa c'era a nel taglio il papa bene molto bello ma capricorno guarda poi ora andiamo a tirare tutte le altre tutte le altre carte ovviamente però qui ti posso già dire allora sicuramente che tu vado a qualche parte tu vado a qualche parte io credo un luogo di mare un lago insomma un luogo d'acqua o comunque dove ti fare diciamo è un luogo che ti piace che ti fa stare bene va bene ma al di là di questo quindi di questo viaggio di questo spostamento quindi il primo sole sta attenta a non bruciarti eccetera eccetera ma guarda questa è una bischiera però c'è chi va dal parrucchiere chi va dall'estetista che si fa bella o bello eccetera ma c'è anche chi si fa colpi di sole le mesh fammi sapere se tu ti fa bionda ok biondo biondo o comunque sai che colpi di sole quelle mesh eccetera perché le vedo comunque detto questo non so un piccolo insomma sono dettagli comunque detto questo qui c'è uno spostamento c'è un viaggio tu vado a qualche parte e questo lo abbiamo detto ma qui c'è anche un qualcosa che ti sorprende o una visita improvvisa che qualcuno si viene a trovare con tutte le aspetti un qualcosa deciso su due piedi c'è qui ti vedo proprio fare fare qualcosa in compagnia ad un'altra persona poi magari è più d'una ma almeno ad un'altra persona sì però ecco anche se tu sei in compagnia qui di un'altra persona qui c'è un po anche l'improvvisazione mi verrebbe da dire capito qui c'è un qualcosa che te proprio insomma ti voglio un po di sorpresa forse una comunicazione che ti arriva e non tu ti aspetteresti perché qui fanno vedere proprio una comunicazione che ti sorprende e che porta a un cambiamento di una determinata situazione fammi sapere te di che cosa si tratta comunque qui vedo molte comunicazioni movimenti questo se l'ho detto tu vanno a qualche parte c'è il prendersi cura di sé ti vedo qui insieme ad una persona molto carina con cui c'è molto molta affinità molto fascino anche mi viene da dire qui c'è una persona che ti piace molto in tutti i sensi anche semplicemente come stima come affetto non è detto sia ti piace nel senso attrazione sessuale va bene quindi le comunicazioni guarda se tu sta studiando se devi fare un esame se tu devi superare un qualche cosa qui tu ce la fai qui c'è un qualcosa vedo che ti tiene molto in ansia magari forse proprio anche degli esami capisci a me degli esami che tu devi fare un test e tu devi passare anche fisico ora io di salute non parlo quindi però tu mi devi capire sta tranquillo o tranquilla ok che va tutto bene nel senso che fanno vedere un esame un test superato superato per bene ok quindi se tu studi ecco tutte queste cosine tutte queste cosine qua fammi ancora vedere capricorno 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 qui ci sono proprio delle belle notizie anche eh che ti possono ti possono veramente arrivare guarda qui mi è volato il nove di denari il nove mettiamolo di capricorno qui ci può essere un momento sicuramente favorevole però non per nulla qui c'è il sole il sole ci sono le stelle qui qui c'è come se fosse un sogno diciamo un sogno che si realizza un qualcosa che si materializza qui tu passi dei momenti come ti ho detto molto belli con una con una persona con cui tu ti trovi bene ma anche ancora qui da queste carte si evince che tu potresti veramente fare anche delle nuove conoscenze quindi conoscere nuovi amici nuove persone insomma ok a uno o più di un personaggio con cui insomma tu ti potresti trovare anche molto bene qui queste carte mi parlano anche di denaro è a dire il vero qui c'è anche del denaro in arrivo quindi se tu lo sta aspettando qui dovrebbe arrivare però c'è sempre ecco senza però c'è anche in questa stesa la il fattore sorpresa il fattore così un qualcosa che non tu non tu ti aspetti fammi vedere ma qui c'è anche molto forte e molto importante la 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 famiglia quindi tu potresti passare dei momenti proprio molto emozionanti molto belli con la famiglia qui ci può essere un figlio una figlia insomma che ti potrebbe dare anche delle belle soddisfazioni oddio uno è un po così quindi se tu ce n'ha più d'uno fanno vedere sia il ragazzino dolce affettuoso quindi senz'altro no che potrebbe quindi agire così nei tuoi confronti durante questo periodo un altro un pochino più ora non voglio dire ignorante non mi fraintendere un voglio per carità però con un comportamento un pochino più anche aggressivo se tu vuoi ecco un pochino più aggressivo più rabbioso più più di testa più capito ecco vediamo eccola vediamo anche con gli oracoli dell'amore che non parlano solo d'amore ovviamente cosa hanno raggiungere quindi ecco qui un periodo in cui tu passerai dei momenti anche con questi familiari guarda vuole parlare quindi qui c'è un qualcuno che vuole veramente parlare con te di un qualche cosa ok quindi tu potresti avere un colloquio un un incontro un colloquio come si dice un chiarimento con qualcuno questo sicuramente fammi vedere però vedi questa persona non è onesta quindi qui tu potresti avere a che fare con una persona che se la vuol parlare però ti vorrebbe dare a intendere guarda ti contatterà vedi qui c'è qualcuno che ti contatterà che ti vuole parlare però fai attenzione a quello che ti dice perché insomma ti potrebbe anche raccontare o cercare di raccontare fischi per fiaschi qui c'è una situazione io vedo capricorno che ti tiene un pochino in apprensione che ti tiene un pochino un pochino in ansia perché la sua testolina la non è stata ferma io vedo che qui c'è una testa che la pensa proprio tanto la pensa tanto però durante questo periodo tu passerai anche dei momenti tranquilli e beati con degli amici magari amici appunto di di vecchia data che tu sei solito frequentare insomma ecco quindi tutto sommato capricorno un periodo tranquillo anche se un pochino ansioso un pochino voglio di nervoso però molto capito la festa la testa comincia a essere un po inino stanca perché tu pensi troppo però ecco qui vedo anche dei soldini che arrivano qualcuno che ti contatta che si vuol chiarire da quello che capisco con te qualcuno ti vuol parlare del tempo speso con gli amici e se ne hai anche con i figli perché qui fanno vedere proprio la famiglia e queste persone giovani quindi capito un qualcuno della sua della sua famiglia e tu potresti rivedere e passarci dei momenti e poi te l'ho detto questo spostamento questo viaggio ti vedo andare da qualche parte e tu fa anche bene aggiungo io va bene that's it per il momento mi fermo qua lascio a te la parola giù nei commenti fammi sapere di chi di cosa ti stanno parlando queste carte e quello che poi ovviamente tu vivrai se devi superare un esame un test stai tranquillo va bene capricorno alla prossima grazie a tutti